Scegliere i dieci finalisti del Bestie Show per il giudice del primo gruppo, sta finendo un attimino il pre-ring. Ok, dalla Serbia la signora Susa Lajic, Canelupo cecoslovacco, Busseron, Castore bianco-svizzero, Pierdetto, Novaro delle Piangre, Pastore australiano, Pastore belga, Colli, Australia Kettledog, Schependoist, Criargo, Border, Corgi, Shetland. Canelupo cecoslovacco, Pastore bianco-svizzero, Capito la belga, la Colli, lo Schependoist, il Border, il Briard, ok. Allora, vediamo adesso il Pastore bianco-svizzero. Siamo nel primo gruppo, Cani da Pastori e Bovari. Pastore belga, Terviure. Le Colli. Grazie a tutti. 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 Allora, per il secondo gruppo...